Siamo con Simone Taverna, un giovane tamborinaro, detto giusto, che ha la passione per i giganti. Innanzitutto spieghiamo che cosa sono i giganti. I giganti sono una tradizione, con i giganti penso che siamo cresciuti tutti. Noi tramandiamo, già da quando eravamo piccoli, questa tradizione e cerchiamo di portarla avanti al meglio. Questi sono i giganti di Tauriana, non sono i giganti di Tauriana, ma bensì i giganti di Tauriana. Noi accompagniamo questi giganti che sono molto storici anche per la festa di San Fantino e della Madonna dell'Alto Mare. Quindi la tua è una passione da ragazzo? La mia è una passione che è nata da quando avevo 5 anni, ne ho 17. Ecco, oggi i giganti vengono usati nelle feste patronali? Sì, un po' anche in tutti gli altri eventi, anche nelle sagre, anche negli eventi privati addirittura, matrimoni, compleanni, comunioni, dove ci chiamano. Ecco, voi annunciate la festa, tornando alla tradizione delle feste, perché noi prima ti vedevamo nelle feste, ecco, annunciate la festa che inizia i festeggiamenti nei vari paesi, quindi questi due. Ecco, c'è una cosa particolare dove chi porta questi giganti, possiamo dire, un passo particolare? Beh, il ballo è sempre quello, il ballo caratteristico, i giganti e il cavalluccio, solo che il cavalluccio oggi non c'è, è a riposo, però il ballo è questo, il corteggiamento fra i due giganti, mate e greconi. Quindi loro si corteggiano e poi con la musica? Noi con la musica li accompagniamo, perché la musica, ecco, risale ai tempi dell'antica, dove c'erano i briganti, dove c'erano, e anche alla fine la musica, la tarantella tradizionale, però sonata con i tamburi. Ecco, c'è un evento nei prossimi giorni, mi sembra a Taurianova, che ci sarà di Taurianova? Allora, la Taurianova è il 18 agosto 2023, raduno organizzato dal comune di Taurianova, dall'assessore Massimo Grimaldi e insieme al nostro gruppo i giganti di Taurianova. Quindi per chi vuole essere, ci sta guardando attraverso tutta la calabria da Sicilia, venite a Taurianova perché il 18... In la terza edizione del raduno dei giganti. Abbiamo già un numero di... E la bellezza di 50 coppie di giganti. Quindi una Taurianova in festa. Sì, Taurianova in base ai giganti. Sì, Taurianova in base ai giganti.